Con molto rammarico ho appreso dagli organi di informazione la notizia della decisione scellerata del Cot 118 regionale di sopprimere la postazione di Eliambulanza ospitata presso l'aeroporto di Ponte Cagnano, che era a servizio dell'intero territorio della provincia di Salerno e Avellino e quindi per quanto mi riguarda anche del Cilento e Vallo di Diano. A scrivere al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, è il primo cittadino di Vallo della Lucania a Tony Aloia. Sperando ciò non corrisponda al vero, fa sapere Aloia, mi permette sottolineare al presidente della regione De Luca quanto questa scelta possa risultare grave per le nostre popolazioni. Il nostro territorio ne uscirebbe per l'ennesima volta penalizzato. In tal modo, in zone caratterizzate da una orografia dir poco complessa, si renderebbe ancora più difficoltoso l'intervento sanitario in caso di emergenza. L'occasione mi è propizia per ricordare al presidente la situazione di grande sofferenza che le nostre comunità stanno patendo nel campo della sanità, dove molto spesso non vengono garantiti i livelli essenziali di assistenza, in modo particolare in caso di urgenza e emergenza. Infatti, gli ospedali presenti nel Cilento e Vallo di Diano viaggiano da molto tempo in grandi difficoltà per la forte carenza di personale sanitario, medico ed infermieristico, tale da compromettere l'esistenza di molte unità operative a cui si aggiungono le ormai annose carenze infrastrutturali. Faccio dunque un appello accorato al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e alla sua sensibilità affinché i problemi appena evidenziati possano trovare un'adeguata soluzione e chiedo di convocare al più presto un incontro con i sindaci del Cilento e Vallo di Diano per discutere di questi temi vitali per le nostre comunità.